Foggia, Brambilla, qua la mano a margine di una lunga giornata. Il Foggia ha raggiunto l'intesa con quello che sarà il suo nuovo allenatore. È ormai fatta l'ex tecnico della Juventus Next Gen e l'uomo destinato a guidare il Foggia nella stagione. Ormai alle porte, il 51enne Brianzolo di Vimercate stamane ha raggiunto la Puglia. Dopo essere atterrato a Palese, incontro a Bari con il presidente del club rossonero Nicola Canonico e lunga chiacchierata su programmi e progetti con lo stesso patron e col DS Domenico Roma. Una interlocuzione che ha convinto l'allenatore a dire sì al Foggia che ha superato al photo finish la concorrenza di Catanzaro, Cosenza, Pescara e Spal che pure si erano messe sulle tracce del tecnico. Un incontro che è proseguito poi in serata a cena in un ristorante della bassa provincia barese. A quel punto ha intesa per ormai raggiunta. L'ufficialità arriverà soltanto nei prossimi giorni perché Brambilla resta legato alla Juventus fino al 30 di giugno. Ma ormai è certo il Foggia che ha già riempito la casella direttore sportivo con la nomina di Domenico Roma. Da stasera ha a tutti gli effetti anche un nuovo allenatore e Massimo Brambilla toccherà a lui provare a portare il Foggia il più in alto possibile.